Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Per lavori fino alle 18 è chiuso il tratto compreso tra Barberino e Aglio. Sulla direttissima per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Badia e Barberino, sempre in direzione Bologna. Sulla A12 chiusa l'entrata di Rosignano Marittimo in direzione Livorno per lavori. Sulla Fipilic per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano, restringimento di carreggiata tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!